Cari amici, ieri pomeriggio ho partecipato a un bellissimo incontro nella sala dell'Arengo del Broletto di Novara, l'antico salone dove fin dal Medioevo si riunivano i notabili e i governanti del comune di Novara per partecipare a un convegno intitolato Di Plinio e Di Buon Vino, sponsorizzato dal distillatore Alessandro Francoli con la partecipazione di due autori e attori bravissimi che hanno letto e selezionato pagine dalla Naturale Sistoria di Plinio e il Vecchio dedicate al vino. Questo convegno perché io nel 2017 ho promosso una ricerca sul cranio attribuito a Plinio e il Vecchio, ricerca che ha portato dei frutti molto molto interessanti. Potrete leggere sul libro di oggi, sul mio blog, l'articolo e il resoconto di questa ricerca. Ma perché vi parlo di Plinio? Perché si è creato un particolare, particolarissimo firruge. Questo reperto, l'unica reliquia probabilmente di un personaggio romano molto noto, è conservato nel Museo dell'Arte Sanitaria di Roma, dove è conservata una copia in gesso della Porta Alchemica di Piazza Vittorio. E di che cosa si tratta? La Porta Alchemica o Porta Magica o Porta Ermetica o Porta dei Cieli è un monumento che fu edificato tra il 1655 e il 1681 dal marchese Massimiliano Savelli di Palombara. e nella sua residenza, appunto, Villa Palombara, aveva costruito altre quattro porte, porte alchemiche, che recano alcune iscrizioni, incisioni, rilievi di assoluto interesse esoterico. Prego, è una storia molto affascinante quella della costruzione di questa porta che il marchese aveva voluto dopo il contatto con l'alchimista Francesco Giuseppe Borri che si dice, la leggenda tramanda, che trascorse una notte nei giardini della villa del marchese di Palombara alla ricerca di una misteriosa erba capace di produrre l'oro. Il mattino seguente il Borri fu visto scomparire attraverso la porta ma lasciò dietro di sé alcune pagliuzze d'oro frutto di una riuscita trasmutazione alchemica e una misteriosa scritta piena di enigmi e simboli magici che poi il marchese di Palombara fece trascrivere su questa porta ermetica di Piazza Vittorio che è ancora oggi visibile e visitabile. Ora, la cosa che mi ha colpito è che su segnalazione della lettrice Benedetta che già mi aveva fornito dei validi spunti in passato vi ricordate il saluto di Papa Benedetto a Papa Teodoro mi ha ricordato appunto che la porta alchemica una copia di questo monumento è conservato nel museo stesso dove è conservato il cranio di Plinio il Vecchio e leggendo tra le iscrizioni magiche riportate su questa porta ecco cosa trovo in questa villa dalla rugiada celeste, dai piani arati e dalle acque correnti il suono dissodato dà frutto mentre che nel salnitro e pel sole dallo sparso letame salsa fumo questa tenuta riempie d'erbaggi le vie delle città i solchi coltivati danno per la sete coppe di vino bevi allegramente a profusione vino puro a mo' di bacco eccetera eccetera ecco c'è un fil rouge che ci riporta al tema della rugiada celeste al tema dell'alchimia passando per Plinio il Vecchio il vino il viticultore, il distillatore che ha promosso e finanziato questa ricerca scientifica sul crano di Plinio il Vecchio ecco Jung l'avrebbe definita una coincidenza significativa ma non ci allarghiamo perché sennò poi i nostri nemici dicono che io sono pagato dalla P2 e che partengo alla massoneria parliamo piuttosto della rugiada inserita nelle nuove modifiche del canone della messa ecco già nel 2020 avevo ripreso quelle che sarebbero state queste modifiche nel nuovo messale approvato da antipapa Francesco numerosi cambiamenti che sembrerebbero solo innocue sfumature ma che per via logica producono pesanti ripercussioni non solo sulla dottrina ma anche sull'azione spirituale sacrale della consagrazione eucaristica tra questi cambiamenti che riguardano appunto il Gloria il Padre Nostro il Kyrie Eleison eccetera c'è la preghiera eucaristica dove avviene una sostituzione che ha scandalizzato già nel 2020 molti credenti la formula santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito è diventata santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito ecco la rugiada a molti è suonata come una novità ma in effetti andando a scavare la rugiada è citata alcune volte nella Bibbia ed è presente anche nell'originale latino del messale postconciliare di Paolo VI del 1968 ec ergo dona quesumus spirito tui rore sanctifica dove rore sta per rugiada appunto ma nel 1969 nella traduzione italiana questa romantica metafora dello spirito santo fu omessa perché? ecco perché la rugiada in effetti nel terzo secolo veniva citata dai cristiani come una metafora dello spirito santo ma come ha ricordato giustamente Don Minutella in una sua catechesi su Radio Domina Nostra del 2020 nel terzo secolo non esisteva ancora la teologia dello spirito santo che viene dogmatizzato nel quarto e quindi per quale motivo usare una metafora ormai obsoleta dello spirito santo quando esiste già lo spirito santo fin dal quarto secolo? appunto perché come scoprì nel 2020 la rugiada è il nettare dei rosa croce è il nettare dei rosa croce e infatti guarda caso lo ritroviamo citata nella porta alchemica che reca il simbolo dei rosa croce questo sigillo di Davide con due triangoli sovrapposti è appunto un simbolo dei rosa croce riportato in molti testi del 600 e compare per la prima volta sul frontespizio del libro allegorico alchemico Aureum Seculum Redivivum di Enricus Madatanus pseudonimo di Adrian von Minsicht questo tema della rugiada noi lo ritroviamo nel Mutus Liber un testo base dell'alchimia di un esoterista che si chiamava Altus che fu scritto nel 1677 vedete in queste stampe l'irradiazione dal cielo verso la terra della rugiada che viene poi raccolta da un uomo e da una donna simbolo dell'unione degli opposti ricordiamo anche che gli alchimisti di cui sono sopravvissuti alcuni studiosi fino al 900 erano soliti raccogliere la rugiada durante la notte di San Giovanni il 24 giugno e raccogliendo questa umidità notturna poi si proponevano di raggiungere la pietra filosofare o la conoscenza di se stessi perché poi la pietra filosofale diventa anche in questi studi metafora della conoscenza di se stessi ecco come vedete la rugiada che viene inserita nel canone della messa a tutto un retroterra alchemico esoterico rosacrociano che non può essere casuale non può essere casuale tra l'altro nella consacrazione del corpo di Cristo lo Spirito Santo agisce in primissima persona quindi attraverso la sua effusione l'effusione di se stesso e ora Padre Santo santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito quindi l'effusione è l'azione con cui lo Spirito Santo santifica questi doni allora la rugiada per così dire non è più lo Spirito Santo in prima persona ma è per così dire un sottoprodotto santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito sì c'è l'evocazione di un'idea di effusione espansione di questa sostanza ma non è più lo Spirito Santo che santifica in prima persona questi doni ma la sua rugiada la sua rugiada che è appunto il nettare di Rosa Croce che viene citata sulla porta alchemica ecco qui sarebbe da compiere studi molto approfonditi in questo ambito complessissimo che riguarda l'alchimia secentesca anche perché dovete considerare che l'alchimia era una disciplina che non seguiva dei parametri logico-razionali ma addirittura intuitivi onirici simbolici quindi una via completamente diversa da quella che era la via cristiana che attraverso il Logos spiega tutto spiega la realtà spiega la creazione e le leggi e le regole per salvarsi l'anima fondamentalmente l'alchimia invece segue tutt'altro percorso quindi religioni pre-cristiani discipline iniziatiche misteri segreti simboli intuizioni sogni tutto ciò che non è una acquisizione della conoscenza piana reale e rivelata come nella fede cristiana istituzionale per così dire bene come vedete c'è un fil rouge che guida questa inchiesta che è la prima partecipata della storia ringrazio la lettrice Benedetta per avermi segnalato la porta alchemica e per avermi fatto ricordare che una copia di questo monumento si trova nel museo dell'arte sanitaria che vi invito a visitare perché è interessantissimo ci sono dei reperti di straordinario interesse che vanno dal corno dell'unicorno al bezzo alla farmacia portatile di lord byron a una manina di una bambina che fu misteriosamente metallizzata da un medico nell'ottocento insomma c'è una una quantità di reperti interessantissimi naturalmente molti anche provenienti dal mondo dell'alchimia non solo della scienza vera e propria e della medicina che muoveva i primi passi ma ci sono anche medicamenti antichissimi come per esempio la teriaca una specie di panacea con la quale si curavano tutte le malattie naturalmente con gli effetti che potete immaginare dato che un ingrediente base di questa teriaca era appunto la carne di vipera ecco nella storia della scienza della medicina possiamo vedere che per secoli i nostri antenati hanno ingurgitato dei miscugli terrificanti e questo ci fa riflettere su questa idolatria verso la scienza che oggi sembra aver risolto tutto quanto ma è relativamente recente come una disciplina una scienza una conoscenza funzionale a salvare davvero la salute e il corpo delle persone molto importante ricordare che questo cavalier Borri e il marchese di Palombara erano in contatto anche con Atanasius Kircher gesuita il cui biografo era Hieronymus Langenmantel appartenente all'Accademia dei Carpofori che a detta degli storici della massoneria tedeschi era una società premassonica o protomassonica che aveva appunto come ideali la pace il sincretismo religioso la tutela della natura dell'ambiente eccetera e quindi vedete che si pesca sempre un po' nello stesso minestrone Hieronymus Langenmantel che nel 1687 commissionò al pittore tedesco Johann Georg Melchior Schmittner il quadro di Maria che scioglie nodi la Knotenlöserin conservata nel museo nella chiesa di St. Peter ad Augusta chiesa gesuitica ricordiamo come Bergoglio poi diffuse in tutto il mondo questo pseudo culto mariano quando sentite la rugiada mettete mano alla rivoltella come diceva quel commediografo tedesco quando sentite queste modifiche che per quanto sottili nascondono sempre il serpe il veleno l'insidia dell'inversione della fede cattolica bene io questo pomeriggio sarò a Torino come voi sapete anche se mi dicono che è tutto esaurito domani sarò a Ferrara dopo domani il 10 sarò a Modena il 16 sarò a Lucca il 17 a Genova il 23 a Roma se non vi siete ancora iscritti a questo canale che ha appena raggiunto la cifra di 1400 iscritti fino a due o tre giorni fa eravamo a 1300 fatelo gentilmente se potete se potete mettete anche un like e grazie a tutti coloro che hanno voluto sostenere l'attività tecnica di questo canale un caro saluto a tutti dal vostro Andrea Cionci